Ci troviamo in un bar storico, un bar, un punto di riferimento, voi state lavorando con il take away, è un modo per ripartire come sta andando? Ma diciamo che la mattina si lavora abbastanza bene perché la gente gira un po' di più, il pomeriggio ora siamo comunque chiusi. E' complicato, molto complicato perché come vedi fuori, dentro, una volta non ci sono delle normative, ci sono però non ci si capisce niente, take away, asporto e poi qualcuna è più disciplinata e qualcun'altra no, però è davvero faticoso così. Voi avete messo peraltro distanza di rispetto, massimo 4 persone, però si va nell'estate e ovviamente la gente vorrebbe anche sedersi fuori. E ora aspetteremo le ultime normative, vediamo, stamattina abbiamo saputo che forse sicuramente si potrà riaprire il 18 e quindi speriamo bene, almeno 15 giorni prima della data che era quella del primo giugno. Speriamo di poter ricominciare un po' alla volta a lavorare. In una battuta che esperienza avete avuto nei giorni di lockdown, di chiusura totale? Ma sai, all'inizio era abbastanza tranquillo perché ancora non ci si rendeva conto. Dopo un po' ti prende l'ansia, soprattutto per i ragazzi che lavorano da me, come tutti naturalmente, come poter gestire un po' tutto, soprattutto dopo, perché sicuramente non sarà come prima.